La Mothership spara dei missili, arrivano! Sai, non c'è il procedimento. So che mi senti, e so che puoi opporti. La Mothership lancia dei raps! Ma è ancora molto da imparare. Tutto questo casino è colpa della tua DNA. La DNA dimostra tutte le opzioni. Ma aspetta a te decidere cosa sei disposto a sacrificare. Vuoi ancora sistemare tutto, Taylor? Non è troppo tardi.